Il messaggio parla che la nostra Terra vive una sua vita cosmogonica. Entriamo nel dettaglio di che cosa significa. Allora, noi siamo l'enzima e quindi in termini anche temporali la nostra vita rispetto al grande pianeta che ci contiene è estremamente breve. Quindi i nostri cicli di crescita sono settenari, 714, 21 eccetera eccetera. Anche i cicli della Terra sono settenari ma su scale temporali gigantesche. Ogni 700 milioni di anni abbiamo un periodo denominato ciclo cosmico terrestre o di crescita cosmica della Terra. L'umanità fu impiantata nella pianeta Terra ben 623 milioni di anni fa. Questa è la vera data dell'inizio della storia dell'uomo sulla Terra. Prende anche il nome di ciclo di razza madre terrestre. Al compimento di ogni ciclo di razza madre terrestre, cioè allo scadere dei 700 milioni di anni, si ha un mutamento principale che corrisponde ad un passaggio dimensionale del pianeta. Prima dimensione minerale, seconda dimensione vegetale, terza dimensione animale, quarta dimensione compariamo noi. Siamo il quarto elemento che entra in gioco. Ma siccome dobbiamo sperimentare per acquisire sapienza e conoscenza attraverso una sperimentazione nella terza dimensione corporea, che è l'animale, noi abbiamo 600 milioni di anni per sviluppare la stabilità etica. Ecco, questi 600 milioni di anni sono finiti nell'anno 2000 e tutto abbiamo sviluppato, tranne che, come la chiamava Berlinguer, la questione morale. Cioè, siamo sotto zero. Cioè, l'umanità va verso una immoralità che sta diventando ideologia e stile di vita. Quindi stiamo sovvertendo in maniera radicale l'ordine naturale, e quindi la natura reagirà e ovviamente muta il pianeta dimensionalmente e anche noi, cioè gli esseri vegetali, animali, umani che in esso vivono. Questi mutamenti causano eventi di enorme portata planetaria perché la muta riguarda tutti i regni del pianeta e se l'umanità in quel momento non sta in equilibrio con le leggi universali, questi mutamenti possono essere molto violenti. Il ciclo cosmico terrestre di 700 milioni di anni è suddiviso a sua volta in cicli minori di 100 milioni di anni. Anche alla fine di ogni ciclo, sotto ciclo di 100 milioni di anni, il pianeta ha delle convulsioni a livello globale che interessano quindi i regni che in esso esistono. I due cicli di 700 e 100 milioni di anni sopra descritti poi si suddividono in tutta una serie di sottocicli che a loro volta determinano sempre delle variazioni sia strutturali del pianeta e sia degli esseri che vi abitano. Nell'anno 2000 è giunto a compimento un ciclo di sottorazza o convulsione animica planetaria di 100 milioni di anni. Quindi quando il pianeta raggiunge quell'età deve automaticamente fare una muta così come l'essere umano a 14 anni passa dalla pubertà passa, inizia l'età matura. Quindi la donna diventa fertile, eccetera, eccetera. E la Terra nel 2000 ha raggiunto l'età di 2 miliardi e 700 milioni di anni. Cioè sono 700, 700, 700, prima, seconda, terza dimensione. 600 milioni di anni fa inizia la quarta dimensione con l'ingresso nella terza dimensione dell'antropoide animale la dimensione spirito che fu innestata nell'antropoide creato attraverso manipolazioni e adattamenti dagli esseri solari quelli che noi chiamiamo divinità e fu impiantata nell'antropoide terrestre dopo che fu scelto un animale acquatico che era un dinosauro si chiama serpente piumato. Nell'Oriente ancora il serpente o il drago è adorato come simbolo dell'origine dell'umanità. Quindi, compiendo i 600 milioni di anni dal 2000 in poi iniziano a scatenarsi forze che devono portare forzatamente a un cambiamento a un mutamento del pianeta purtroppo in una situazione dove la nostra gestione del pianeta ha prodotto ulteriori squilibri che aggraveranno di molto ciò che già per legge di natura deve comunque avvenire. Quindi determineranno una straordinaria queste forze naturali unite al nostro cattivo agire una grandiosa trasformazione umana planetaria e cosmica. Riassumendo, abbiamo completato la sesta convulsione animica planetaria di 100 milioni di anni e da 23 anni siamo entrati negli ultimi 100 milioni di anni dove noi dobbiamo sperimentare una società di pace, amore e giustizia. Gli extraterrestri sono qui per aiutarci a superare questo scalino che è molto molto rischioso perché abbiamo decine di migliaia di armi nucleari oltre alle centrali nucleari civili che comunque producono un gravissimo inquinamento per cui quindi alla conclusione di questo ciclo di 100 milioni di anni avendone già vissuti 23 quasi ne mancano 99 milioni, 999 mila, 977 anni quindi abbiamo ancora tempo, rilassiamoci. A quella data la Terra arriverà all'età di 2 miliardi e 800 milioni di anni e si chiuderà il quarto ciclo di razza madre terrestre di 700 milioni di anni. Lì mutamenti saranno veramente pazzeschi perché noi spirito se riusciamo a arrivarci come Dio comanda nel vero senso della parola la trasformazione della nostra struttura nel quale ci incarniamo sarà favolosa non si morirà più sarà un fatto gigantesco e sono passati 12 mila anni che fa parte poi dei sottocicli e deve iniziare la nuova generazione umana. Gli extraterrestri quindi in tutti questi decenni ci hanno ammonito cambiate, smettetela con il nucleare smettetela con l'inquinamento smettetela di sfruttare la Terra smettetela di estinguere le razze animali e vegetali sì, niente smettetela con le guerre niente smettetela con le ingiustizie sociali sì, ciao anzi la situazione è diventata sempre peggio perché oggi un piccolissimo gruppo di esseri umani circa otto famiglie possiedono solo loro quasi la metà della ricchezza dell'intero pianeta c'è una situazione allucinante famiglie che hanno da sole quasi il 50% della ricchezza del pianeta si possono comprare tutto infatti se lo sono comprate anche perché sono quelle che controllano la stampa del denaro ci avete mai pensato che il denaro è un prodotto umano? quindi lo deve fare qualcuno e quello che fa il denaro ovviamente se lo stampa e ci si compra tutto l'apparente difficoltà o astrusità della economia dell'alta finanza è solo per non farci capire quanto è semplice il giochino è un monopoli loro stampano le fisci e noi ci dobbiamo fare un mazzo così per averne un po' e tirà a campà Mario Draghi in una conferenza stampa rispondendo a un giornalista che gli chiese ma la BCE può fallire? e lui fa un risolino beffardo tipico suo e dice no la BCE non può fallire perché ha risorse illimitate ma se tu hai risorse illimitate se la gente muore di fame le famiglie soffrono a causa di mancanza di soldi tu sei un criminale tu hai colpa tu sei responsabile ce lo dicono sulla faccia ma noi non comprendiamo perché abbiamo la testa dentro la scatoletta il denaro è lo strumento di schiavitù più efficace ce l'abbiamo sempre in testa persino i maschietti sono riusciti a spostare quella cosa lì e ci hanno messo il simbolo dell'euro nessuno si vuole rendere conto che l'apocalisse è già iniziata il processo cosa vuol dire apocalisse? vissarione rivelazione cioè Dio rivela al mondo i suoi piani e gli effetti delle nostre cause si rendono evidenti cioè la rivelazione e la liberazione delle coscienze attraverso fatti didattici informazione o attraverso fatti mondiali perché di fronte alle verità che si renderanno palesi tutti capiremo capiremo quindi chi crede ancora che gli alieni non esistono e quando loro si manifesteranno a livello globale chi potrà dire non è vero? nessuno quindi il processo della rivelazione è un processo di effetti da cause generate e di rivelazioni di enti che vengono dall'esterno compreso il mondo divino che ci faranno capire la verità o per salvezza o per condanna in relazione alle nostre opere causa-effetto ecco io vengo presto dice Gesù nell'apocalisse e renderò il mio salario a secondo delle opere non dei credo religiosi ora et labora la preghiera è una grandissima arma del bene ma se poi non fai le opere è come mangiare e non lavorare ingrassi e ti ammali quindi noi dobbiamo pregare e fare le opere positive non solo ci dobbiamo unire perché per ciò che accadrà nel futuro da soli sarà molto difficile sopravvivere grazie a tutti